Amsterdam, Olanda, 22 giugno 2000 Mui vi faccio il cucchiaio Il cucchiaio! Oh, what a spoon! Benatti Vettotti alla cucciare in panelca di Francesco Portetti Ma secondo voi, gli olandesi ancora stanno rosicando per il cucchiaio che ho fatto? Sono arrivato ad Amsterdam per scusarmi per il cucchiaio fatto ai miei vecchi rivali olandesi Ma andiamo a rosarci con i coli veri Ma che quelli vedi? Sai quanti debure si dove ci stanno qua? Tu li vedi? Ah, debure saura È normale che l'hanno portati i fiori Do you remember spoon? It's a present Eh sì, ma dà glielo Ah, the spoon! Lucky you were a very good football player But unfortunately, not a very good gift maker, man Is it you, soon? It's the spoon Eh E adesso andiamo a scusarci con gli altri Eccolo, ecco, sta qua sotto Fembronkost? Yes Hai Totti? Oh Questa me riconosci Do you apologize to every Fembronkost, except me? Come on Excuse me, sir Stacy Sedorf? Yes È scusarci? Eh, sì Che cosa è? Che sta dicendo che… Sta dicendo che… Thank you Thank you No, thank you is not enough Devi… devi scusarti per bene Hai capito o no? With an apology, say Ma te sei venuto? Ma te sei venuto? Ora io faccio il cucchiaio. Il cucchiaio! What a spoon!